Buongiorno ragazzi e benvenuti sulle Stalkabout, io sono Saga e in questo video vi spiegherò tre modi semplicissimi per trasferire i dati da un iPhone all'altro. Cominciamo subito dopo la sigla. Prima di iniziare come sempre vi chiedo di lasciare un bel like sul video per supportare il canale, di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella così da essere aggiornati sui futuri video che verranno pubblicati. Dunque dicevamo passare i dati da un iPhone all'altro è una cosa molto semplice anche perché Apple ci dà tre possibilità per farlo a seconda di quanto è vecchio il nostro iPhone da cui dovremo portare i dati. Il primo metodo che voglio farvi vedere è secondo me il più efficiente ed è anche quello più automatico ed è quello che io personalmente utilizzo da il vecchio iPhone 4S quindi insomma ho fatto pareti passaggi in questa maniera. Sto parlando ovviamente di avere il backup su iCloud, piccolo requisito però Apple vi regala 5GB su iCloud, 5GB non servono a nulla, il backup fisicamente non ci può stare. Quindi quello che dovrete fare se volete usare questo metodo è chiaramente spendere almeno i 99 centesimi al mese così da alzare i 5GB a 50GB. Se ascoltate me sono 99 centesimi spesi benissimo perché è una comodità pazzesca. Dopodiché dovremo verificare di avere attivo il backup automatico sul vecchio telefono. Come fare ve lo dico io. Andate nelle impostazioni, poi premete sul vostro nome in alto, andate sulla nuvoletta sottoscritto iCloud e la premete, poi scendete tutto in fondo e cercate backup su iCloud. Se il backup è attivo vuol dire che ogni volta che voi attaccherete il vostro telefono alla corrente messa in carica e sarete sotto la rete Wi-Fi, in automatico Apple ha generato il vostro backup. Per essere sicuri però potete anche premere su esegui backup adesso in modo da essere sicurissimi che il backup che andete a trasferire è aggiornato fino all'ultimo secondo. Fatto questo, il resto è davvero tutto in discesa. Dovrete accendere chiaramente il vostro nuovo iPhone con il vecchio vicino in modo che venga autorilevato e vi chiederà in automatico se volete trasferire il vostro Apple ID sul nuovo dispositivo. Dovrete ovviamente dirgli sì e dopodiché avrete varie opzioni tra cui ripristina backup tramite iCloud. Scegliete quell'opzione lì e automaticamente l'iPhone andrà a caricarvi tutto il contenuto del vecchio telefono. Vi ritroverete davvero il telefono in copia 1 a 1, non vi mancherà nulla, contatti, foto, video, applicazioni, anche le varie impostazioni, tutto esattamente com'era. Quindi io vi consiglio assolutamente questo metodo. Se invece per qualche motivo non potete usare il backup di AirCloud, magari non pagate per i 99 centesimi, avete solo i 5 giga, siete pieni, non è vostra intenzione farlo, esistono altri metodi. Il secondo metodo che vi consiglio è il trasferimento diretto da iPhone ad iPhone, però questo ha un piccolo limite, ovvero l'iPhone che manderà i dati dovrà avere almeno iOS 12.4, se no non sarà possibile farlo. Quindi anche qua andiamo ad accendere il nostro telefono nuovo, con vicino quello vecchio, trasferiamo di nuovo in automatico l'Apple ID e tra le varie opzioni che usciranno fuori sceglieremo trasferirci dati tramite iPhone. Partirà quindi un trasferimento diretto di dati dove il vecchio iPhone manderà tutto quanto sul nuovo. Anche qua la cosa sarà molto rapida, quindi come metodo anche questo è molto efficiente e l'unico problema appunto è che se avete tenuto diversi anni un iPhone e quindi magari è un po' vecchiotto, non potrete utilizzarlo. E quindi? E quindi si va verso il terzo metodo, quello però da usare con un computer. Questo metodo è quello un pochino più macchinoso proprio perché è l'unico che non potete farlo con telefono e telefono, vi servirà per forza usare un computer di mezzo. Vi anticipo già che il computer può essere un normalissimo computer Windows o un Mac, non cambia nulla. L'unica cosa che vi serve è aver installato iTunes e quindi che cosa facciamo? Prendiamo il vecchio telefono, lo colleghiamo ad iTunes, iTunes chiaramente lo riconoscerà, vi aprirà la schermata dell'iPhone e dovremo dire al programma di fare un backup sul momento. Ci andrà un po' di tempo proprio perché tutto il contenuto del telefono verrà salvato sul computer. Quando il backup sarà finito faremo l'esatto contrario, quindi attaccheremo questa volta il telefono nuovo, lo accenderemo e gli diremo ad iTunes di ripristinare il telefono da un backup. Sceglieremo il backup con la data e l'ora corretta, se ne andremo più di uno e anche qua verrà praticamente ritrasferito tutto il contenuto del vecchio iPhone sul nuovo iPhone. Il problema principale di questa procedura è il tempo perché ci andrà il doppio del tempo rispetto alle altre, perché se negli altri due è un trasferimento diretto, qua noi dobbiamo prendere i dati, trasferirli sul computer e dal computer ritrasferirli sul telefono. Quindi risulta tutto più macchinoso. In più ovviamente dobbiamo avere un computer, mentre con gli altri non è assolutamente necessario. La cosa utilissima però di questo metodo è che possiamo davvero avere un iPhone magari obsoleto o che non gli funziona magari il wifi o che magari ha qualche guasto e quindi non riesce a sincronizzarsi col nuovo, non ce ne frega nulla. L'importante è che funzioni lo schermo, chiaramente perché dovremmo dargli due comandi al volo, e che funzioni in cavo perché va appunto attaccato tramite cavo lighting al computer. E questi erano i tre metodi che esistono per trasferire i file da iPhone ad iPhone. Sono tutti e tre molto precisi come trasferimento, nel senso che vanno veramente a trasferire tutto quanto, come vi dicevo, da contatti ai video, alle vostre cose personali, alle applicazioni, alle impostazioni, fanno la coppia di uno a uno del telefono. Quello che vi consiglio io è, se vi è possibile, evitate quella da fare con un computer. Optate per o quella dell'iCloud se l'avete attivo o se no del trasferimento diretto, proprio per semplificarvi la vita. Detto questo, per questo video è tutto, io spero di esservi stato utile. Vi invito nuovamente a lasciare un bel like sul video per supportare il canale, di iscrivervi al canale e premere sulla campanella così da essere aggiornati sui futuri video che verranno pubblicati. Grazie mille e al prossimo video! Grazie mille e al prossimo video!